Ciao, sono Matteo, sono laureato in informatica all'Università di Genova. Durante il mio percorso di studi in informatica mi sono dedicato alla grafica e alle immagini e quindi lì è nata la mia passione per tutto il mondo della computer grafica e che mi ha portato poi qua dove sono adesso, in un'azienda di videogiochi, a sviluppare giochi e divertimento per tutti quanti. Dopo aver svolto la tesi Queen Miniclip sono piaciuto e di conseguenza l'azienda ha deciso di tenermi e ho cominciato la mia avventura come programmatore. All'inizio abbiamo cominciato sviluppando giochi per il web, poi ci siamo spostati, quando il mercato è cambiato, sui giochi mobile che si sono trasformati da giochi single player a giochi multiplayer ed ecco lì che è entrato finalmente in gioco il cloud. Tramite il cloud noi possiamo collegare tutti quanti gli utenti nel mondo e fare in modo che possano avere un'esperienza di gioco comune. Terminata l'università e terminata la tesi Queen Miniclip non mi aspettavo di trovare una realtà come questa. È un po' americana, un pochettino la Silicon Valley, ci sono un sacco di benefit, facciamo yoga la mattina, c'è la collezione per tutti, lavoriamo tutti quanti in un grande open space dove possiamo stare a contatto. In Miniclip sono l'e-developer del server team qui nello studio italiano, quindi mi occupo di gestire tutta quanta l'infrastruttura server e tutta quanta la nostra infrastruttura sul cloud insieme al mio team per sopportare tutti quanti i giochi che abbiamo attualmente in produzione. Se dovessi consigliare a un ragazzo giovane la carriera nell'ambito dei videogiochi, beh, li consiglierei sicuramente di frequentare all'Università di Genova, di frequentare informatica, io mi sono trovato benissimo, di sfruttare a pieno la propria voglia, il proprio tempo, la propria fatica per dedicarsi al 100% a quello che sarà poi il suo lavoro futuro per divertirsi prima di tutto.